Eccoci nuovamente qui in compagnia, parliamo come avevo detto di UEFA Europa League con le prime gare che si svolgeranno già domani, quarti di finale turno di qualificazione domani avremo, come si chiama questa? Niederkon Willem Choo alle 18.30, Ammarby Lechbosnan alle ore 19, poi il Tojuwan contro il Degno Sainz alle 20, invece il giovedì avremo Caesara Poel di Nicosia ore 14, Wenderspils Rosenborg 14.15, Renuva Edux Palad ore 15.30, Aratta Armenia Fola ore 16, Astana Budukonosto ore 16, Teuta Granada ore 16, Lincoln Rangers Glasgow ore 17, Cups Slovan Bratislava ore 17.30, Botosanis Kendia ore 17.45, Bodo Klimit Gialgiris ore 18, Godeborg Copenhagen ore 18, Locomotip Lobdive Tottenham ore 18, Nefci Bacu Galatasarai ore 18, Riterai Libre ore 18, Flora Re Chiavi ore 18.30, Olimpia Olympia loneο동ость S вним viva 2.11.50, Olimpia Liubbiana Znischky ore 18.30, Connor H Oke츠 Brunosaw bring the Bacu Galatasarai BORIS AFFORE 19, GIUNGARDEN EUROPORE 19, IBERNANS, MOLF, RENVARORE 19, LADDA, POEL, BERSCEVORE 19, LOGOMOTIM, TIBILISI, DINAMO, MOSCORE 19, MACCABIA, AIFA, ALMATI, ORE, 19, OFICRETA, POLLONI, MASSO, ORE, 19, RIGA, TREFIORO, ORE, 19, FULL, PARTIZZA, BELGRADO, ORE, 19, INDAR, ESCALDES, DUNDAL, ORE, 19, 30, ARIS, COLOSCO, VALIV, CAORE, 20, Stesso orario per Borac, Bansialuca, Rioave, Kukesi, Wolfsburg, Kaya, Startberg, Shamrock, Rovers, Milan, Silkes, Drift, Standard, Liege, Balatano, l'ultima delle ore 20, Mura, Rus, 20 e 15, Colerain, Motherwell, ore 20 e 30, stesso orario per Viking a Berdin, poi Dandistrada, Jablonek, 20 e 45, stesso orario Linfield, Floriana, Osech, Basilea, Servette, Reims, Bach, Bato, Pola, Stiawa, Bucharest, ore 21, ore 21 e 05, Semifinali vedo qui in programma già il Vittoria Pozen contro il Sondeschi, ore 18, Sangallo contro il KDN, sempre il 24, alle ore 20 e 30. Quindi, già un unico italiano, il mio Milan, speriamo che vada bene. Allora, ho detto, ora ci soppiamo un attimo, anche perché, diciamo, devo terminare di ascoltare, barra guardare un video del bardo Michele Posa, della rubrica, come vi dicevo, tutto a caso. Vabbè, manteniamoci questo terzo video, ma credo che sicuramente sarà l'ultimo dedicato, l'ultimo di oggi, che dedicheremo la dada abbrico, la card attuale e momentanea di Clash of Champions 2020, che si darà il 27 settembre, presso il Thunderdome, che in realtà sarebbe l'area dell'Orlando Magic, ma vabbè. Domani ci devo informarvi già che, molto probabilmente, verso il pomeriggio, non so se è il primo pomeriggio o il tardo pomeriggio, sarà, solo allora sarò disponibile su YouTube, perché, come vi dicevo, ieri sono, domani sarò di giornata di salsa di pomodoro, quindi, insomma, se ne andranno un paio di ore. Beh, io vi ringrazio, vi rimando ai miei tanti video del mio canale, trovate un'occhiata anche al canale del bardo, Michele Bosa, che l'ho trovata anche su Facebook, su Twitch, non so se sta su Instagram, ma su Instagram, credo, il Godzilla Luca Fandini. Bene, tanti saluti, ci vediamo, forse, prima dell'ora di pranzo, o prima di mezzogiorno, intorno a mezzogiorno. Tanti saluti a voi tutti, alla prossima, saluti amico, ciao, alla grande, ciao.